ARRIVA TARZAN Ok Ah ok posso ancora distruggerli Perfetto Però scusami Se il rinoceronte Ci si butta addosso Vuol dire che c'è qualcosa di nascosto O forse solo Per rendere più difficile la cosa Probabilmente la seconda Non penso Ci sia Un reale Ah no in realtà Aia In realtà stavo per dire Anche il rinoceronte rompe le casse Il problema è che una volta rotte tutte Impazzisce non sa più cosa fare della sua vita Un po' come me No vabbè scherzavo Comunque Il mio coltello Sbaglio questa Salta però Dicevo Sbaglio questa È la stessa Mappa O perlomeno Una versione modificata Di quella Che giochiamo con Jane Ecco ti pareva Dicevo con Jane Quando deve scappare Dai babbuini I pipistrelli Maledetti A me sembra la stessa mappa Poi Magari in realtà Mi sbaglio Poi Come dicevo Magari Mi sbaglio Ed è solo Una mappa Che gli assomiglia E poi alla fine Sono tutte Più o meno uguali Ste mappe Andati via Perfetto Io intanto Evito Tutto L'evitabile Che poi Sti maledetti I pipistrelli Sono anche difficili Da colpire Ok dobbiamo Distruggere Ah ok Dobbiamo anche Evitarli Gli oggetti Fantastico Ma Questi mi valgono Come casse Sì perfetto Aia Ma scusami Morte istantanea Vabbè Vabbè C'è sto Sto pischello Salta giù dagli alberi Alti quanto L'Empire Stealth Building Senza Farsi nulla E un ramo in faccia L'ammazza Ecco fatto Ah oddio mio Stavo Giusto per dire Ma non è che Ste Ste cose con le foglie Ci fanno cadere di sotto Perfetto Perfetto No Come Vabbè dai ci siamo Che sfiga ma Mi mancava No E che Attacca Dai Tarzan Maledizione Ecco fatto Ecco Non pensavo che In realtà Sti qua Resistessero A più di un frutto viola Pensavo che il fiore viola Gli stachillasse Non è che posso entrare No Peccato Quante lettere ci mancano Perfetto Una sola Ce ne manca una sola Più che altro Non vorrei che in realtà Madonna mia Quanto Quanto siete forti A lanciare ste casse Clayton vi deve pagare Di più Maledizione Ecco fatto Madonna mia Bravissimi Questi Stavo giusto Dicendo Non è che mi sta Seguendo Cavolo Si Peccato Essersene accorti Alla fine Vabbè dai In realtà Esatto Dovremmo Essere al sicuro Ormai Dopo essere stati Schiacciati Da 200 tonnellate Di legno E metallo Voglio dire Perché no Ed eccola lì L'ultima lettera Oggettivamente Questo Fermatelo Dicevo Questo livello È Stato il più Semplice Per trovare Tutti gli oggetti No Tarzan Devi lanciarlo Devi lanciarlo Dritto Ecco Qui La vera domanda È come Arrivo A Quello Là È stato Molto Divertente Non lo voglio Negare Ecco Fatto Ciao Clayton Sta rovinando Il mio piano Volevo Vedere se Andava dritto E finiva Di sotto Nel fossato Oppure Oppure Girava È stato Particolare Però non abbiamo Preso tutte le monete Mi sembra Non mi è uscito il 100% Sbaglio Sicuramente 97 98% Vediamo 97 Però Perlomeno Abbiamo preso tutti gli oggetti Almeno quello Che poi Io sempre Sono sempre attento A sti livelli Eppure mi manca sempre Qualco Oh che bello Il mio livello preferito Mi manca sempre qualcosa Che poi è incredibile Che Abbiamo lasciato questo gioco Proprio Prima del livello Più semplice Che volendo Io potrei Anche Andare a Rivederla Magari la mia Aia La mia vecchia Memory card Maledizione a te Maledizione Non mi lasci il tempo La mia vecchia Memory card Stavo dicendo E vedere A che punto Ero arrivato Tarzan però Se i comandi Non li prendi E' ovvio che poi Sbatti contro le cose Maledetto imbecille Ecco qua Ecco qua Ecco fatto Un bel po' di monete Una vita Ce la siamo guadagnata E Tarzan E' un cretino Che non Segue I comandi Però Perlomeno E mi sembra Assurdo Averlo lasciato Qui Così Ma che forse No Il livello Della barca Sono sicuro Di averlo fatto E' proprio L'ultima Immagini che c'ho Di questo gioco Nella mia testa Oltre questo Questi due livelli Sono sicuro 100% Di non averli fatti E comunque Manca l'ultimo livello Ora Di non averli fatti